Vi ho convocato entrambe perché la questione riguarda tutte e due voi. Allora, lo ribadisco, io e questa non abbiamo nulla che ci unisce. Come si chiama sto coso? Paolo. Paolo! Paolo Giugno. Ecco perché andava sempre in Cina. Senti, coca, mi metti sti quattro fiorellini su. Ma perché non mi hai detto che mi dà molto fastidio quando mi chiami coca? Va' vero, coca? Papà, ti hai mai parlato di me? Mai. Papà non ti parlava mai di me? Solo di quell'altro. Tu devi condividere le tue cose con gli altri bambini. Non ti fa fregare dagli altri ragazzini, questa è roba tua. Scusami Paolino, ma che ti ha colpato il cellulare? Sì. Sì? Ma lei come pensa di educare questo bambino? Almeno io non me lo perdo per strada. Paolino, scusami ma non ti vedevo. Guarda, il ragazzino con me sta una favola. Hamburger, patatine e televisione al plasma da 200 pollici. Altro che gallette di riso e Oliver sfiga là. Vedo che ti sei fatta il Toy Boy, caruccio. È un artista. Sì, artista. Ce la stiamo occupando congiuntamente con un rapporto basato sulla civiltà. Io ho comprato le mutande, sono a 40 euro la metà. 40 euro di mutande? Beh. Vedi, ti avevo detto, braccino corto. Grazie.